Musica Vabbè in pratica dobbiamo risalire il percorso Vabbè io prima me lo finisco vediamo Aia Dicevo vediamo che cosa c'è da queste parti Esatto tipo soldi Vabbè in sostanza sto percorso era il percorso lungo se non prendevi la scimmia Ci sono soldi e Ok dicevo non riesco più a passare E forse forse una statua ma arrivato a questo punto non vedo niente Ehi ma anche con Scusami come l'hanno programmata sta Sta belt Mi ha tirato indietro mentre stavo facendo il salto Ecco qua grazie Aspetta perfetto Perfetto Aspetta Ecco qua grazie Ma sti cosi qua ci cadono addosso No ci spingono in avanti ok Perfetto andata Uff Ah ma allora dovevo scendere Io pensavo che dovevo salire di sopra Non andartene Aspetta E via Capsula di sicurezza verso la giungla Ma quindi questo è l'ultimo livello E' bellissima in questa stagione La mia solita fortuna Qui fa caldo ed è anche umido Torna qui Torna indietro Trasportatore atomico Vibranium Y28 Prego inserire Quanto? Benvenuto nel mio mondo amico Perfetto Abbiamo la possibilità di salvare la terra Prima di salvare il mondo Facciamo due al prezzo di uno Svegliami quando finisce Vabbè Distruggi Quei marziani E il loro teletrasportatore Cinque Vabbè allora Allora quindi Qua era dove eravamo prima Che abbiamo fatto tutto il percorso lungo Vabbè Immagino esatto Che il costume spaziale qua ci aiuta Sparare più facile Ma più che altro La barra rossa che cos'è che indica? La quantità di Di alieni? Vabbè che tanto Ora come ora Questa zona Sono pronto per il mio incontro Ho avvicinato Mister Deli Ecco fatto Sì mi sa che era la quantità di alieni sai Di qua No Spara dritto Bravissimo Ecco fatto Fantastico No Esatto Bravo Perfetto Ne mancano altri tre Spariamo Anche Agli scienziati Già che ci siamo Perfetto Addio scienziati Dove siamo? Non vedo Ok grazie Dicevo Sento il rumore di ranocchia Ne abbiamo dimenticata una Stai buono Ecco qua Io intanto Continuo a spammare Poi Ecco fatto Sto livello così mi ricorda tanto il gioco di Questa parte qua più che altro Con il laser e tutto quanto Mi ricorda il pezzo dell'ospedale del gioco dei griffin Ecco fatto Quel gioco lì sai che non lo tocco proprio dall'ultima volta che l'ho portato qua sul canale Che poi era a pensarci oggi era veramente strano come gioco però era bello Era quel periodo in cui io me lo ricordo ancora ad oggi quando era appena uscito quanto ero contento che fosse uscito Se oggi uscisse un gioco di qualche cartone animato particolare che seguo non so quanto sarei contento nel senso lo sarei ma fino a un certo punto Perché avrei paura che lo fanno male Mentre una volta quando usciva un gioco del genere era Non permettere a Marvin e H9 di fuggire Dove dobbiamo andare allora Ok Siamo all'interno della cupola E io come ci entro? Ok c'è una piattaforma qua sopra Ma come ci arrivo? Affitta il costume spaziale di nuovo ok Funzionale e alla moda Duh E però ho ancora un colpo spero che non mi spari nessuno Ci arrivo? Sì perfetto Allora diamo una chiamatina a Duffy per sicurezza Spara lo scienziato Spara lo scienziato Perfetto Allora vieni Duffy Che poi effettivamente No 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 cavolo Madonna mia con un colpo solo il robot Ehi altri 5 centesimi Scusami a cosa serve Duffy se adesso cambiando costume Cioè cambiando personaggio perdiamo il costume Comunque Vieni qua Perfetto Mettiamoci Forse Forse dovevo fare tipo bugs dopo Duffy O ha mantenuto No l'ha mantenuto perfetto Scusami prima l'ha perso Vabbè non importa Ecco qua Hai 13 secondi Corri Corri No no cacchio le piattaforme Vabbè posso salire anche da qua Mi faccio lo shortcut Purtroppo ho perso anche tempo Perché ho fatto Cambio con loro due Mentre Facevo Il primo salto Però Purtroppo Devo fare attenzione qua Ah ok Pensavo in realtà che Salendoci sopra Attenzione No Cavolo Avrei dovuto Tipo Dargli un colpo di martello No 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 Che questo mi spara Scappa Ok ok Un colpo di vita Dov'è No Ok L'abbiamo buttato giù Perfetto Perfetto Siamo Ancora vivi E non c'ha ancora sparato Perfetto Perfetto Ottimo Ok Checkpoint Così se moriamo Rispawniamo qua Tra l'altro Ecco Fatto Che culo Più che altro Perché se cadiamo di sotto Almeno abbiamo Duffy Quindi Corri 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 Ecco qua No Devo andare con Duffy Allora Devo andare con Duffy Qua per forza Ok Ora ti faccio vedere Come si dovrebbe fare Eh certo Sì signore Ascolto e obbedisco Allora No è allontanata Va Certo Faccio un tentativo Ecco a voi La squadra B Allora iniziamo ad andare Con entrambi Andiamo con entrambi Che così Tanto A prescindere Che male Che manata Ecco qua Perfetto Che così qua Dobbiamo andare Con tutti e due Ma io come faccio Ad arrivare sulla cupola Credo che ci arriviamo adesso Sai Comunque Mi sa che qua Tocca a Duffy Vero Allora No Fermo Astronave Torna qui Astronave Ehi Devo ancora salire Torna qua Per favore 3 2 1 Perfetto Eccoci qua Grazie Quindi Adesso Oddio No 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 La statua Riportami su Ma riportami su C'ho ancora la statua Da prendere Eh vabbè Ma porca miseria Sfida bonus Sbloccata Grazie Grazie Ne mancano 3 Dove saranno gli ultimi 2 Allora 1 Ne mancano 2 1 è là sopra Quindi ne manca ancora 1 Che credo sia qua sotto Per forza Allora 1 E Aspetta 2 Che palle Che però È scesa subito Nel mentre che stavo Salendo sopra Quindi non ho fatto in tempo A raccoglierla Eh però Io devo Devo uscire da qua Uffa Ok Una sfida per Proteggi Duffy Ah ma posso Posso sparare all'infinito Allora Guardalo lì che va a prendersi i soldi Duffy Ok La terra sarà meravigliosa Quando finalmente Saranno sparite Tutte le creature Terrestri E ho capito ma Nessuno non può permettersi Di toccare il mio migliore amico O Duffy O siete con Mario O gli siete contro Non avete scampo Terrestri Eh ma io come facevo Come faccio a colpire Marvin Boh io continuo A sparare Non c'è dubbio È sicuramente di gomma Io continuo a sparare Appena lo vedo Quindi Vieni qua Intanto Duffy continua Ad andare a prendere Le carote Nei le carote I soldi Dicevo Servirebbero delle carote Più che i soldi Ora come ora Per Duffy Ecco qua Beccati Che tanto Gli alieni Mi sa che Gli fanno danno Solo se sono in troppi Se lo circondano Tanto Anche se spariamo Duffy non è che lo colpiamo Quindi Tanto meglio per noi Ecco qua Però È stato carino Che Bugs Ha chiamato Duffy Il suo migliore amico Vieni qua Ok è andato Perfetto Continua a prendere soldi Tu eh Siamo quasi A 11.000 dollari Oh Altra scimmia Perfetto Missione compiuta Ah posso uscire Perfetto Dai Vieni qui Hey No cosa Congratulazioni No perché mi manca ancora Una cacchio di statuetta Una ce ne manca Una sola Dove siamo Allora Oh no mi devo rifare tutto il percorso Maledizione Ah perfetto Perfetto Quindi adesso rimangono Ottimo perché con Bugs Nel caso Oh Dicevo possiamo fare il doppio salto Ok qua dobbiamo sperare di riuscire a prendere il centro Visto che l'astronava è scesa Presa Oh No ne manca ancora una Dove cacchio è Maledizione Dove cavolo è l'ultima Vabbè i livelli non sono tanti Quindi basta ascoltare Come dicevo a me non interessa il completismo Totale di sto gioco Lo sapete ma cavolo se ce ne manca uno Forse so dov'è Forse ho capito dov'è Deve essere per forza nella prima stanza La sento ma non la vedo ora Deve essere da questa parte Dai 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 Qui e qui e qui Sì 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 è qua sopra Trovata Trovata perfetto Grazie al suono l'abbiamo trovata Ecco fatto Un'ultima statuetta Scimmia bonus Grande